E andiamo al comune di Monte San Giacomo, ci parla della sua nomina a capogruppo Aldo Manno e di quello che potrebbe essere anche il futuro, soprattutto dei giovani nel piccolo comune valdianese, all'indomani della conferma della consigliatura capeggiata dal sindaco Raffaele Accetta. Insieme ad Aldo Manno abbiamo ascoltato anche Angela D'Alto, vice sindaco proprio del comune di Monte San Giacomo. Ascoltiamoli. Un grande grazie agli elettori di Monte San Giacomo, a quelli che hanno riposto la propria fiducia in me, in generale in tutta la nostra compagine, nelle nostre due liste, perché erano entrambi le nostre. Come hai detto tu, la mia esperienza politica parte da lontano. In realtà io ho iniziato con la militanza classica nelle organizzazioni giovanili, già 18 anni. Quindi la politica per me è stata una grandissima passione e la candidatura alle amministrative, la mia prima elezione che ormai risale, ahimè, a ben 15 anni fa è stata poi una conseguenza di questa passione. E' stato un percorso bello quello di amministratrice in questo comune che piano piano mi ha portato a occuparmi sempre di più delle problematiche legate all'amministrazione locale. Stavolta il consenso degli elettori mi ha premiato e questo per me è una grande soddisfazione perché vuol dire che anche il riscontro positivo del lavoro che ho fatto nei cinque anni come assessore alla cultura. Naturalmente i prossimi cinque anni saranno una grande sfida non solo e non tanto sul piano amministrativo in senso più stretto ma anche sul piano politico. Questo potrebbe essere anche un periodo di maturazione, questa maturità si potrebbe pure pensare ad essere utili non solo per il comune di Monte San Giacomo ma anche per un territorio visto che la politica potresti sposarla ancora meglio. Indubbiamente il mio impegno è stato anche sempre fuori dal Vallo di Diano, cioè da Monte San Giacomo, non solo nel mio comune ma anche in generale nel Vallo di Diano. E credo che in questo momento il nostro territorio stia vivendo una congiuntura particolarmente positiva e favorevole. L'elezione, le nomine di Tommaso Pellegrino e in particolare di Corrado Matera, l'uno presidente del Parco Nazionale, Cilento Diana Alburnia e l'altro assessore regionale al turismo rappresentano per noi una straordinaria occasione di crescita per il nostro territorio. Quindi questo insieme al governo regionale guidato da Vincenzo De Luca, insieme a una nuova classe dirigente che si sta fermando nei comuni, penso a Teggiano per esempio alle recenti elezioni, a tanti giovani amministratori impegnati nelle diverse comunità, secondo me ci apre un grande spazio. Naturalmente noi come amministrazione di Monte San Giacomo esprimiamo già il sindaco Accetta, presidente della comunità montana, ma vogliamo essere protagonisti di questa stagione di rilancio in prima persona io e i miei colleghi giovani amministratori. Aldo Manno, parliamo di questa esperienza che poi da capogruppo ovviamente ti vede protagonista al comune di Monte San Giacomo, è la tua prima esperienza però già avrai sicuramente le idee chiare. Ebbè certo, sono partito, la prima esperienza politica sicuramente, sono partito dalle associazioni con il forum dei giovani, ho avuto la presidenza, ho ricoperto per due anni questo incarico e adesso dopo la chiamata di Accetta non si poteva sicuramente rifiutare. E quindi poi del resto la nomina a capogruppo è stata veramente per me motivo di grande soddisfazione, un onore, oltretutto il più giovane della squadra, mi riempie d'orgoglio e da un altro punto di vista mi responsabilizza sicuramente. Grandissimo impegno quindi per un comune, parlavo di idee chiare, così come la sindaco parlava di un'amministrazione molto molto giovane, quali possono essere già gli obiettivi? Ebbè gli obiettivi, già qui dove stiamo insomma sarà un luogo che è stato valorizzato e che quindi porterà a degli eventi, porterà ad incontri periodici frequenti, è un luogo dove si può, diciamo, da vivere quotidianamente. E poi quindi sicuramente puntare sulle politiche giovanili e continuare il processo di valorizzazione del turismo, quindi della montagna e anche del centro storico. Parliamo invece del futuro, dopo questa nomina, ecco, che cosa è che passa per la testa, per quello che è il futuro politico ovviamente? Eh vabbè, certo è una grande responsabilità, a me è fatto tanto piacere far parte di questa strada e quindi continuare un percorso politico, un percorso che possa portare magari a maggiori risultati e a quindi condividere le responsabilità, le difficoltà, ma anche, diciamo, le soddisfazioni di amministrare quotidianamente il proprio paese. Oltre questo c'è da dare un occhio particolare a quello che sarà il futuro, quindi i giovani di questo paese, di questo territorio. Certamente, certamente. Io sono convinto di una cosa, che i giovani non devono essere costretti ad andare via dal nostro territorio, devono scegliere in maniera, come dire, felice e magari avendo l'alternativa, ecco, di restare qui e quindi di poter intraprendere un percorso magari imprenditoriale o un percorso diverso nel nostro paese, ovviamente affiancato da un'amministrazione che stia vicino ai giovani.